Musica Bella raga, pronti in questo nuovo video su Vitamolz Allora ragazzuoli, oggi vi ho pubblicato come sbloccare in 10 minuti il completo da pirata Benissimo, vi voglio subito mostrare come invece glitcharlo il completo da pirata Quindi andiamo a fare oggi, andiamo a fare subito il torso invisibile Ragazzuoli i requisiti sono praticamente 0 e ci vogliono meno di 2 minuti Ed è facilissimo farlo, però seguite prima il video e poi fatelo Ok, nel frattempo ragazzi vi ricordo di attivare la campanellina perché ogni giorno usciranno sempre i glitch aggiornati E ovviamente entrare in un gruppo Telegram per ovviamente anche avere il posto ogni giorno del forziere Perché come sapete, link in descrizione del video, ogni giorno cambia la posizione del forziere E noi vi aggiorniamo il gruppo Telegram, io o i miei amministratori Ma iniziamo subito con il glitch, io mi sono messo in una sessione ad inviti Questo completo lo trovate ovviamente dopo che lo sbloccate nel vostro appartamento Tra completi speciali Mi sono recato in questo negozio, il mio fedelissimo negozio Ovviamente voi potete scegliere uno qualsiasi, io ovviamente scelgo questo Mi sono chiamato anche il com per comodità del completo Così potete fare anche voi Vi spawna proprio qua, così siete anche vicini Ragazzuoli, una volta che abbiamo il completo entriamo dentro al negozio Andiamo su parti superiori E che cosa facciamo? Andiamo parti superiori e andiamo a mettere, ragazzuoli, il soprabito blazer Ok? Guardate qua, facilissimo Una volta che lo mettiamo, mettiamo nessuna parte superiore Dopodiché, guardate qua, basta fare touchpad Ok? Quindi ve lo faccio un attimo rivedere Guardate qua, è troppo facile, veramente troppo facile Allora, andiamo su blazer da soprabito 18 su 54 E nessuna parte superiore, 1 su 49 Ve lo faccio rivedere perché è stato un pochino troppo veloce Cerchio, cerchio, cerchio Andiamo su touchpad Andiamo su inventario Giubbotti antiproiettile Andiamo su modello e cominciamo a fare freccia destra Spammare freccia destra di continuo Freccia destra, freccia destra o freccia sinistra E' indifferente Ok? Andiamo a spammare, andiamo a spammare freccia destra e freccia sinistra Voilà Come per magia Fate un po' freccia destra e un po' freccia sinistra Dopo un po' vi uscirà il torso invisibile Adesso facciamo cerchio, cerchio, cerchio Andiamo alla cassa E andiamo a salvare il completo col torso invisibile Io vi ricordo che ogni lunedì vi porterò un outfit differente Magari facciamo qualcosina anche su questo outfit Perché ho già delle idee insieme al torso invisibile Quindi magari faremo qualcosina anche su questo outfit Per oggi vi ho portato ovviamente il torso invisibile Ogni lunedì vi porterò poi un outfit differente Magari porterò proprio questo qua del pirata Nel frattempo scriviamo pirata Qui Ragazzuoli E il glitch è finito Due minuti veramente contati per fare il torso invisibile Se volete un bel outfit su questo Ovviamente pirata col torso invisibile Vi ricordo l'appuntamento di lunedì Quindi attivate la campanellina Farò qualche outfit sicuramente questo qua del pirata glitchato Ragazzuoli se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale Entrate in gruppo Telegram E noi ci vediamo al prossimo video Bella